Stiamo rando a bene, noi stiamo sotto e sotto, come quasi due, prima me ne sono due, quindi anche un minuto e cinquante. Ok, siamo deciso, siamo deciso Leo, portate qua, così bene, io devo fare un asco, ci mania lo cì e poi ci prendiamo sempre, ma in aia l'asco è l'asco, 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 l'asco è l'asco è l'asco, 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 l'asco è 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 l'as a 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